Un giorno era da ragazzo, stava lavorando, stava fumando una sigaretta fuori l'ufficio e dal palazzo di fronte lo chiamarono e non ci andò a vedere cosa c'è. E lui sale nel primo piano di questo palazzo e trova una messa in scena di un parto. Erano tutti uomini vestiti da donne con un uomo, cioè un temminiello in realtà, nel letto che aveva proprio le doglie. Poi c'era l'ostetrica, il ginecologo e tutte le persone intorno che tifavano durante il parto. Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi siamo qui con Malù Greco, che è una documentarista, la prima di questa serie. Ciao. Benvenuta. Grazie. Tutto bene? Tutto bene. Era un po' che non ci vedevamo noi. Adesso tu stai a Milano. Sì, sono lì, ahimè, amo sempre Torino e non vedo l'ora di tornarti. Quando vuoi, la città ti aspetta. Allora, io ho detto documentarista, che è una cosa appunto un po' inconsueta. A me piace esplorare un po' anche queste professioni particolari. Però è un aspetto su cui ti stai dedicando ultimamente. Nel senso che tu hai avuto nell'ultimo anno forse un grosso cambio vita, possiamo dire, no? Sì, è una lavatrice. Uno dei possibili titoli che potrebbe avere questa puntata è come si cambia vita, nel senso ci racconti un po' cosa facevi prima, cosa è successo e dove sei adesso. Sì, io ho iniziato, dopo la scuola Wallen sono stata a Torino un altro paio di anni, dove ho cercato di fare reportage, ho cercato di fare esperienze nel mondo, quello che poi sarebbe diventato il documentario, ma che non avevo ancora immaginato che poi sarebbe diventata realmente la mia vita, perché poi mi sono trasferita a Milano, ho lavorato in televisione come producer, poi sono finita in un'agenzia a lavorare principalmente nella formazione, prima come copywriter e poi di nuovo come producer. Facciamo l'inciso, perché voglio sempre approfondire, producer, chi è e cosa fa? Il producer è, nell'ambito della produzione video, si occupa dell'organizzazione, quindi tutto quello che riguarda, ad esempio, chiamare gli attori, fare anche calcoli di budget, cercando, è un po' la persona che si occupa di, è un po' il project manager da certi punti di vista. E era un lavoro che a me piaceva tantissimo, devo dire, perché è un lavoro estremamente dinamico, di responsabilità, cioè si deve essere sempre pronti a reagire. Problem solving alla massima potenza. Assolutamente sì, ed era la cosa che mi stimolava il più. È vero però che poi ho lavorato per sette anni in questa agenzia, però con il covid è cambiato tutto, cioè il mio lavoro con il covid non era più il mio lavoro, perché non potendo più andare sul set, girare, il producer si fa, è un lavoro che si fa all'impiedi e soprattutto c'è un elemento fondamentale che è quello della socialità. Si collabora tantissimo con la troupe, con i colleghi. Questi due elementi erano andati, cioè... A gambe all'aria. Sì, totalmente, e anche quando poi siamo tornati in ufficio, quando siamo tornati a lavorare in presenza, era un po' come se avessimo tutte le conquiste fatte prima del covid, fossero anche quelle andate a gambe all'aria, perché abbiamo ricominciato un po' da capo. E quindi ho cominciato a vivere un forte disagio nel mio lavoro, perché piano piano vedevo che non avevo più gli stimoli dal punto di vista creativo che avevo prima, perché abbiamo anche continuato molto a lavorare da remoto, quindi anche i video li giravamo da remoto e questa cosa ovviamente non è che puoi fare più di tanto. No, esatto, sembra quasi un controsenso un video girato da remoto. Sì, però per alcune esigenze era... dovevamo necessariamente fare quello. E quindi piano piano ho iniziato a viverla sempre peggio, fino a quando poi per anche altre motivazioni ho deciso... Basta. Basta. Cambio vita. Cambio... adesso cambio vita. Ed è successo poi tutto in maniera... mi sono sposata, quindi anche quello era... Cambio relazioni. Grazie. Quindi anche quella era un cambio di vita. Sono andata in Argentina, che era il sogno della mia vita, fare questo viaggio, e quindi mi riempiva anche quello. Finché poi mio padre è stato male, è venuto a mancare, e quello è stato da un lato proprio quello che mi ha spinto a fare dei ragionamenti diversi sulla mia vita, che erano più orientati al perseguimento della mia serenità, cioè come se a un certo punto avessi capito che... ci sono delle cose che capitano e sulle quali non abbiamo il controllo, però ho il controllo su altre cose che possono darmi frustrazione. Mi sono resa conto che in quel momento il lavoro non trovavo più delle motivazioni valide per lavorare in quel posto. Ho ragionato molto su me stessa e su chi fossi io prima che mi capitassero quelle cose. Su la mia formazione, magari anche quando ero adolescente, no? E quindi si formava la mia personalità e c'erano sempre degli elementi che tornavano, che erano il teatro in particolare, quindi la passione per l'arte, la letteratura e il volontariato. Cioè queste cose tornavano sempre nella mia vita. Due punti fermi. Due punti fermi, che però nel lavoro che facevo non esistevano, non esisteva l'utilità per gli altri, cioè io non stavo cambiando il mondo come volevo e non c'era neanche l'utilità per me stessa, perché non stavo migliorando me stessa in nessun modo, perché appunto non avevo stimoli dal punto di vista creativo. Gli unici elementi che ancora di valore, che ancora riconoscevo nel mio lavoro, erano i colleghi con cui mi trovavo molto bene. Però anche quello col Covid era andato un po'... Certo, era mancato anche quell'elemento. Era mancato anche quell'elemento lì, anche perché poi quando si era tornato in ufficio, non era più ogni giorno in ufficio. Per quanto una o due volte ti puoi organizzare con i colleghi per andare nello stesso giorno, però fondamentalmente non capita sempre. E così come ero consapevole del fatto che le vere amicizie le avrei avute comunque... Certo, sopravvivono anche al lavoro, è un cambio di lavoro. Sì. Beh, complimenti. Ma non tanto perché la ritengo una scelta coraggiosa, che senz'altro lo è, però anche per, diciamo, come ne hai preso consapevolezza, no? A volte viviamo per un lungo periodo con un malessere che non sappiamo identificare, perché non ci mettiamo lì a snocciolare le ragioni, magari neanche con noi stessi. Invece, insomma, tu da come me l'hai raccontato hai fatto proprio tutto un percorso che ti ha aiutato a capire cosa c'era che non risuonava con quella che è la sua natura. Sì, io poi mi dico, in realtà, cioè, non sei la prima persona che mi dice che ho fatto una scelta coraggiosa. Io non l'ho mai ritenuta coraggiosa. Cioè, a un certo punto mi è sembrata la scelta più lineare che potessi fare, perché era come scegliere tra la mia serenità, cioè, scegli di vivere come vuoi, oppure come ti è capitato. E quindi mi sembrava quasi una scelta obbligata. Io non l'ho mai ritenuta una scelta coraggiosa, in realtà. È stata sicuramente travagliata, perché poi... Sono sempre cambiamenti. Certo. Per giunta facendola senza avere un altro lavoro, cioè senza avere... Già trovato... Già trovato... La sostituzione. Sì, ma infatti mi ricordo questa cosa, quando ho chiesto, ho detto al mio capo che mi sarei licenziata, lui mi aveva chiesto, ok, poi quando, in maniera molto gentile, quando ti sentirai pronta, sarei curioso di sapere dove andrai. Ed io non avevo mai avuto il coraggio di dire, ma vado un mese in Africa, in realtà. Che non è, per i nostri spettatori, un posto a casa. È andata effettivamente un mese, due mesi in Africa. Sono andata un mese in Africa, in Madagascar. E anche quello faceva parte, in realtà, di quello che raccontavo del riscoprire i miei pilastri, quali fossero. Lì in Madagascar c'è il mio fratello, che vive ormai lì da due anni, ma in realtà sono 14 anni, un po' avanti e indietro. E quindi era sia riscoprire un rapporto familiare, cercare di rivivere un rapporto familiare, che è quello che il mio papà mi ha lasciato, no? Quindi era sia appunto il volontariato di nuovo, perché io sono stata lì un mese, mio fratello lavora nell'ambito dell'educazione, quindi gestisce una scuola, una fondazione, adesso anche un orfanotrofio, quindi io ho lavorato con loro per un mese. Poi in realtà mi sono fatto anche il mio viaggetto da sola, che era una scoperta anche quella per me, perché per quanto abbia fatto i viaggi da sola, ma mai di quel tipo. E anche quella è stata esaltante. È un boost di autostima, secondo me, viaggiare da sole. Quello è vero. Ricarica molto quella componente lì. Sì, ma perché per quanto sia bello viaggiare in gruppo, con gli amici o con il proprio compagno, la propria compagna, da soli, cioè ci si basta un po' da soli, a stare da soli, no? Anzi, io quasi quando sono in viaggio con mio marito, evito proprio, se sento altri italiani che sono lì, oddio, ci sono degli italiani, no? Da soli invece è proprio tutto un altro approccio, anzi, senti che qualcuno sta parlando in italiano, c'è un amico. Sì, sì, sì. È vero, è vero che cambia tutto. Beh, e lì hai ritrovato un po' quel contatto umano, di cui mi parlavi prima, immagino, no? Sì, specie sono state anche attività sul volontariato. Sì. Sul sociale, forse. Che volontariato. Sì, è stato, io credo che, di aver capito cosa vuol dire Maldafrica, è proprio un rapporto tra le persone che è come se non avesse nessun tipo di barriera, nessun tipo di limite, cioè hai dei rapporti con le persone che sono reali e subito immediati, non ho vissuto delle esperienze pazzesche dal punto di vista dell'intensità emotiva. Mi è capitato di, mia cognata, la moglie di mio fratello, è un insegnante di danzaterapia e quindi quando lei faceva questi corsi di danzaterapia, io ero lì con lei. E un giorno siamo andate in questa fondazione dove la situazione era veramente tosta, perché c'erano una cinquantina di bambini di cui l'ottanta per cento erano malnutriti e questa cosa la capivi perché se chiedevi l'età alle mamme, l'età del bambino, ti dicevano sempre magari un anno in meno di quello che avevi immaginato. Così come magari avevano i capelli non erano più neri, ma avevano perso la melanina e quindi avevano i capelli arancioni, cioè era una situazione veramente pesante da vedere. E la cosa è che più che altro abbiamo ballato, oltre che con i bambini, che è sempre divertente ed è un'esperienza bellissima, i bambini li sono portati tutti qui. Immagino. Abbiamo ballato con le mamme che avevano l'età proprio più dispara, dai tredici ai cinquant'anni, quindi immaginavi anche delle storie dietro che erano potenti e drammatiche. È stata l'unica volta che ho pianto in tutto il viaggio, perché alla fine ci siamo chiusi in questa stanza e abbiamo cominciato a ballare. Era come se loro avessero bisogno di fare quella... di un momento per sé. Tanto che a un certo punto è entrato un bambino che piangeva perché voleva la mamma ed io sono rimasta sconvolta dal fatto che la mamma lo abbia mandato via. Cioè proprio come a dire... Non è il momento. Non è il momento, adesso voglio fare questa cosa. Ed era proprio... Io avevo veramente la sensazione di essere una delle prime persone che le guardava negli occhi. Cioè come ad attestarne l'esistenza. E capivi che erano donne che vivevano solamente per i figli, che non avevano mai un momento per sé. È stata... C'era un'energia in quella stanza che io non so descrivere. Era qualcosa di incredibile. E così come questo ho vissuto... Veramente ho riscoperto... Ma riscoperto poi... Ho scoperto perché non mi era mai capitato di vivere quelle... Quel tipo di rapporti che magari durano veramente 40 minuti di ballo insieme. Però è una cosa come se ci conoscessimo da tantissimo tempo. Sì, è un altro tipo di ingresso in relazione. Sì, ma proprio dell'esserti grato. Ti sono grati perché gli hai rivolto la parola. Gli hai dedicato il tuo tempo. E quindi non ho fatto nulla. Diciamo... Quando è che sei tornata? Io sono tornata il 18 giugno e il 21 giugno sono volata a Dischia. Ok. Dove ho presentato in anteprima assoluta il mio primo documentario. Wow! Quindi è stato... Dei mesi intensi. Sono stati dei mesi molto intensi che mi hanno anzi quasi dato l'illusione. Ok, forse ce l'ho fatta. Sono alti e bassi per forza come tutta la vita. Però... Cosa vuol dire farcela? Non so, è tutto un divenire. Quanto meno trovare una strada. A me è sembrato quello. Cioè, appunto, come un'acquisizione di fiducia nel... Tanto almeno provarci. Quindi dire, ok, cioè... Non è detto che mi succederà questo. Non lo so dire neanche adesso che sono passati diversi mesi. Però... Quanto meno non avrò il rimpianto di non averci neanche provato. E quindi sarei arrivata forse tra 15 anni a dirmi... Ah, ma io avrei potuto fare la documentarista. No. Non... Sempre meglio evitarli. Rimpianti o rimorsi? Li confondo sempre. Non lo so. Pensavo fossero sinonimi. C'è quella sfumatura di... Avrei potuto, ma non... Vabbè, ma non stiamo ad approfondire adesso. Perché abbiamo cose molto più importanti come il documentario. Perché io qualcosa mi ricordo del tuo documentario perché ha avuto una produzione molto lunga. Cioè, una produzione, intendo proprio... Una creazione. Che l'ha portato all'arrivo ad Ischia a luglio. Sì. Innanzitutto ti chiederei di cosa... Di cosa tratta il documentario. E poi magari mi racconti come è stato metterlo in piedi dall'inizio a qualche mese fa. Ok. Sì, è stata una produzione molto lunga. E questo è perché il tema del documentario è una processione che si fa una volta all'anno. E quindi avevamo l'obbligo di poter girare solamente in un giorno, che è il 2 febbraio. Perché ogni 2 febbraio c'è una processione che tradizionalmente si fa da Napoli a Montevergine, che è in provincia di Avellino. Che è la festa della Candelora. La Candelora è una festa cattolica, ma che in realtà ha molti richiami al paganesimo. Poi magari andiamo un po' più nel dettaglio. E è una festa che è associata a questa figura, che è tipicamente napoletana, del femminiello. Che è il femminiello, è una figura antichissima della tradizione napoletana. Non è né uomo né donna, ma, cito le parole di uno dei personaggi del documentario, è come se fosse un uomo con una pennellata di rosa. È come ci si sveglia, oggi mi sento uomo, oggi mi sento donna. E nella tradizione napoletana hanno proprio dei loro riti. Tra questi c'è anche appunto questa festa. Ed è una festa incredibile, perché poi vedi arrivare appunto questi pullman, di questi personaggi incredibili, perché poi sono di un fascino... Beh, immagino sia molto colorito, diciamo, come processione. Oggi è diventata proprio quasi una festa della comunità LGBT. Resta ancora visibile che c'è una differenza tra femminiello e omosessuale, o un transgender, insomma, tutte le... Perché non è... Io sono molto ignorante in materia, perché il documentario non l'ho visto. Hai ragione. Ma lo vedrò e mi farò una cultura. Però, diciamo, non è qualcosa, una condizione biologica quella di femminiello. È anche semplicemente un percepito, come si dice, un'auto percezione. Sì, è come... Ma in realtà è molto strana come cosa, perché è quasi come se... A non voler trovare un'identità. Cioè, è una... Allo stesso tempo una ricerca di un'identità che però non c'è. Ok. Quindi come nell'identificarsi in qualcosa che però non... Cioè, che ha molto della tradizione, perché poi, tra l'altro, tutto questo è nato perché Chiara Borsini, che è stata la nostra compagna di studi, mi disse che stava leggendo il libro di una sua ex collega di università, antropologa, che era una ricerca su questa mamma schiavona, che sarebbe il modo in cui, confidenzialmente, i femminielli e in generale, vabbè, la comunità dei fedeli, campani, diciamo, chiamano la Madonna nera che è in quel monastero. E appunto schiava nera, schiava perché nera. E per questo anche loro, in quanto è marginata, perché poi la tradizione, la leggenda che sta dietro quella Madonna è che era una delle sette sorelle ed essendo la più brutta fosse stata mandata in questo monastero che era in cima ad una montagna. E quindi è come se avessero visto in quella emarginazione una identificazione e quindi per questo è diventata la loro Madonna. E Chiara stava leggendo questo libro di antropologia su mamma schiavone, sulla festa della Candelora e dei femminielli, e mi chiese se io, in quanto campana, li conoscessi. Esatto. E li conoscevo anche perché mio padre mi aveva sempre raccontato che quando un giorno era da ragazzo, stava lavorando, stava fumando una sigaretta fuori l'ufficio, e dal palazzo di fronte lo chiamarono e non ci andò a vedere cosa c'è. E lui sale al primo piano di questo palazzo e trova una messa in scena di un parto. Erano tutti uomini vestiti da nonne con un uomo, cioè un temminiello in realtà, nel letto che aveva proprio le dolie. Poi c'era l'ostetrica, il ginecologo e tutte le persone intorno che tifavano durante il parto. E alla fine partoriva, c'era proprio il parto finalmente, partoriva, questo mio padre mi diceva un mambolotto, poi ho scoperto che non era un vero pudore, mi diceva un mambolotto perché non lo era, o quantomeno se lo era, aveva un dettaglio che mio padre commetteva, ma che era collegato alla fertilità, perché era un rito della fertilità. E poi addirittura, secondo la tradizione, questa è la tradizione della figliata dei femminili, secondo la tradizione si scende poi in strada, in processione con questo neonato. E purtroppo è una tradizione, io credo mio padre sia stato uno degli ultimi testimoni, perché poi è una tradizione che si è andata a perdere. E anche purtroppo la figura del femminile negli anni, ormai sono magari anziani, è una figura che si sta perdendo, però è qualcosa di incredibile, perché poi nella tradizione napoletana, se nasceva un femminile in casa, portava fortuna, perché era quello che si occupava poi di crescere i figli. E pensarlo oggi in un paese come l'Italia, una cosa del genere, dove non solo non è possibile nei matrimoni, cioè siamo l'ultimo paese dell'Europa occidentale. Sì, dove è legittimato il matrimonio tra lo stesso sesso. E addirittura è impensabile l'adozione di bambini a Napoli, nell'Ottocento invece erano loro che crescevano, che allevavano i figli. Quindi era tutto incredibile quello... Ma e quindi c'è anche un legame con la religione, cioè un legame riconosciuto o è la comunità che si aspira, si professa? Allora, ci sono molti legami con la religione, perché loro in realtà hanno preso quel monastero, non solo per l'icona della Madonna che c'è dentro, ma anche perché in quel monastero si dice che sia stato costruito sulle rovine del Tempio di Cibele. E i sacerdoti di Cibele erano i virati. E quindi anche per questo c'è un collegamento, così come una leggenda che ruota attorno a quel monastero è che una coppia di uomini che era stata mandata via dal proprio villaggio, credo nel 600, non ricordo esattamente, comunque una leggenda molto antica, fu proprio nei pressi di quel monastero, mandati via perché omosessuali dal loro villaggio, vicino a quel monastero furono salvati dalla Madonna da un raggio di sole che li riscaldò durante invece una nevicata e anche quello è stato individuato quindi come elemento di collegamento tra la comunità omosessuale e il monastero, così come la Candelora. La Candelora è una festa cristiana, cattolica, che però riprende molto dalle feste pagane, perché appunto è la festa con cui si apre la primavera. E' un momento di rinascita, esatto, mentre per la tradizione cattolica è quando Gesù fu portato al Tempio per la prima volta e anche lì ci sono una serie di collegamenti, quindi diciamo del giovane, ci sono dei gesti, dei rituali che si fanno come appunto il giovane che si apre invece all'età adulta, quindi si appresta a vivere l'età adulta. Quindi per quanto la tradizione cattolica prende anche molto dalle religioni precedenti. Certo. Ok, e quindi tu, diciamo, siete partite diversi anni fa, tu e la nostra ex collega Chiara Borsini e come vi siete mosse per creare questo documentario? Allora, ne parlammo, dovevamo coinvolgere un videomaker e io conoscevo questo tramite un amico, il coinquilino di un mio amico era un videomaker che mi piaceva molto come lavorava e quindi ho chiamato Paolo Corazza, che è rimasto subito affascinato da tutta la questione della candelora e del pellegrinaggio e quindi il 2 febbraio siamo partiti in maniera anche un po', non voglio dire rocambolesca, però anche un po' impreparata. E infatti poi siamo tornati altre volte, cioè appunto, quella è stata la prima volta un po' come se ci fossimo anche fatti conoscere, all'interno, conoscere, accettare, abbiamo fatto le prime interviste che in parte abbiamo utilizzato, in parte no, perché era anche, appunto, eravamo anche abbastanza impreparati a quello che sarebbe successo, per Giunta era estremamente difficile girare in quella condizione perché c'è tantissima gente, poi in particolare quell'anno c'erano molte più persone dei chiami successivi e quindi appunto siamo tornati anche nei due anni successivi e poi è arrivato il Covid, anche qui è arrivato il Covid a rovinare tutti i piani, ma in realtà avevamo già deciso di, avevamo già abbastanza materiale. Abbiamo poi fatto l'intervista in particolare a Marcello Colasurdo che poi è diventato il nostro protagonista perché lui era una sorta di guru era una figura molto particolare che guidava tutti questi femmini e tutti aspettavano che arrivasse lui alla processione e quindi siamo andati a casa sua in provincia di Napoli e abbiamo girato con lui purtroppo lui poi è venuto a mancare qualche di recente però è stato, anche conoscere lui era stata un'esperienza un personaggio veramente incredibile. e poi quindi fatte le riprese si passa alla fase di post-produzione, no? Quel montaggio. sì, e lì ci ha veramente salvati quasi, è arrivata come una santa salvatrice, Giulia Baciocchi che è una montatrice veramente bravissima, si è appassionata proprio al tema, veramente si è entusiasmata, l'ha preso come proprio in un suo progetto e con la nostra guida ovviamente di quello che abbiamo spiegato ovviamente e l'abbiamo guidata nel montaggio un bel monte ore di girato avevamo veramente tante ore di girato poi con più camere perché noi anche il primo anno che dicevo eravamo abbastanza all'avventura però avevamo anche altre persone che ci aiutavano come operatori quindi veramente avevamo tanto girato e lei anche in tempi abbastanza veloci poi è riuscita a terminare il montaggio ha fatto veramente un lavoro pazzesco e quindi lei si è occupata del montaggio poi stesso Paolo Corazza si è occupato invece della color correction e quindi lui infatti fa oltre a fare l'operatore fa anche il direttore della fotografia e il colorist e poi abbiamo convolto anche altre persone per quello che riguardava l'audio diciamo esterni dopodiché arriva il momento per me più difficile quello che io ritengo è tutto bello prima è tutto esaltante prima però per me il momento della promozione è da mani in capilli perché non so da dove cominciare e quindi abbiamo tramite una mia ex collega una mia cara amica abbiamo trovato una casa di distribuzione alla quale abbiamo fatto vedere il documentario a loro è piaciuto molto e quindi loro hanno iniziato ad occuparsi della distribuzione che vuol dire cercare di venderlo alle piattaforme ma magari prima con facendolo girare per festival per accreditarlo come meritevole diciamo e quindi appunto a partire da Ischia che è stata l'anteprima assoluta poi abbiamo sta andando bene quindi ha partecipato a vari festival sia nazionali che internazionali e devo dire cioè è veramente è una soddisfazione sì a me stupisce tantissimo sia dei film ma anche dei documentari molto quanto passi dall'idea a tutta la realizzazione e poi alla distribuzione cioè ci sono cose che magari noi vediamo in televisione che vanno per la prima volta in televisione che sono iniziate dieci anni prima quindi poi le persone che ci hanno lavorato è difficile mantenere lo stesso diciamo livello di entusiasmo e di commitment tenere la parola inglese che odio buttare là questi termini però la convinzione di portare avanti il progetto fino alla fine sì assolutamente è verissimo è verissimo e non posso nascondere che cioè a un certo punto anche per quando fai un documentario veramente ti immergi totalmente in un argomento in una storia e alla fine arrivi a saperne talmente tanto che ti viene ci sono dei momenti in cui ti dici oddio non basta però devo dire che alcuni passaggi ti tendono a darti di nuovo la carica appunto quando Giulia ci ha presentato il documentario finito poi magari abbiamo fatto delle modifiche ma l'esaltazione nel vedere che ha preso forma quello che a un certo punto ti sembra quasi un figlio cioè per quanto tempo ci hai dedicato per per tutta la dedizione che c'è dietro sì e anche il danaro cioè veramente un impiego di risorse enorme veramente quindi alla fine ti aiutano i passaggi che i vari passaggi che ci sono a ritrovare la carica per per sostenere ma senti ma la la comunità con cui voi siete poi entrati in relazione è andata poi cioè era presente la proiezione ad Ischia c'era qualcuno di loro perché chissà come anche poi rivedersi da fuori purtroppo no purtroppo no questa cosa mi dispiace molto spero di riuscirlo a fare in futuro io avevo invitato Marcello con la surdo che però purtroppo già non stava tanto bene quando lo avevo invitato ad Ischia ma infatti vabbè in pratica io gli avevo mandato sapevo che non vedeva benissimo quindi l'avevo chiamato per giuntare a Madagascar quando l'avevo chiamato quindi da lì l'avevo chiamato non mi aveva risposto e io ho mandato un messaggio vocale che credo ritengo non abbia mai ascoltato qualche giorno fa mi è arrivato un cuore dal dal un messaggio da lui con un cuore ho detto oddio cosa sta succedendo scusate c'è qualcosa di strano ed era un un ragazzo che è cresciuto con lui al quale lui aveva insegnato a suonare la Tamorra e quindi è molto legato e con lui stiamo cercando di organizzare per il suo compleanno una proiezione proprio dalle parti di casa sua che dovrebbe essere una giornata dedicata a lui spero in quel caso riuscirò ad invitare magari anche gli altri sarà sicuramente una bella festa speriamo speriamo ma a proposito di festa cioè Napoli ultimamente è piena di feste ne parlo perché sei la prima diciamo ospite partenopea è assistita davvero negli ultimi anni a un'esplosione di questa città mi sembra che un po' il concept di questa puntata il tema sia la trasformazione la rinascita passando dal tuo percorso professionale alla festa della candelora che mi dici simboleggiare anche questo e sì vorrei arrivare proprio a Napoli che ok c'è la vittoria dello scudetto perché penso tu abbia festeggiato a dovere prima di partire per il Madagascar era un passaggio obbligato andare a Napoli sì sì no assolutamente è un evento storico è un evento storico e credo abbia comunque contribuito a quella trasformazione sì assolutamente Napoli io credo sia vivendo il momento di massima fioritura proprio come se fosse sbocciata pochi giorni fa ci sono stata e mi sembra veramente che le cose che oggi si possono fare se io ripenso quando facevo l'università erano impensabili così come qualche mese fa sono andata a vedere il concerto di Liberato in piazza Aveviscito e con mio nipote tornavo a piedi per i quartieri spagnoli di notte che se penso che qualche anno fa si potesse fare una cosa del genere non credo non voglio dire non mi sareste riuscito vivo ma quantomeno non con tutto quello che mi addosso e dal punto di vista di appunto è come se fosse sbocciata a me sembra magari anche lo scudetto ha contribuito sicuramente a quello ma ancora adesso ci sono ancora i festoni secondo me ci saranno finché non ce n'è un nuovo vincitore diciamo esatto appena il giorno prima fino al giorno dello scudetto di quest'anno non li toglieranno all'inizio devo dire io credevo che fosse un tipo di turismo anche perché è un non so se vai per dire nel periodo di Natale è quasi cioè quasi non riesce a camminare per quanti turisti ci sono sicuramente è una rinascita un po' totale dell'Italia cioè dell'Italia di un po' tutte le destinazioni post covid mi sembra che quelle turistiche classiche siano proprio ritornate a livelli anche sopra al precedente dovendo recuperare degli arretrati però sul Napoli in particolare da Instagram proprio da lì però ho tantissimi amici che ma anche periodicamente tornano tornano poi giù a fare a fare un giro ma a me è sempre sembrato strano che non fosse una meta realmente turistica perché veramente che per la storia per il mare i paesaggi cioè a Napoli l'enogastronomia cioè ha veramente la cultura anche c'è tutto e mi era pensandoci è proprio strano che prima non fosse così appunto io credo abbiano contribuito anche altre cose all'inizio pensavo fosse quasi un turismo culturale quello che perché mi sembrava venisse dal successo di Elena Ferrante magari anche di la musica oppure non so ma anche mare fuori per dire cinema sorrentino insomma c'era una riscoperta che era prima di tutto culturale si sente questa forte spinta culturale oggi forse credo non si sta diventando anche un po' il mio timore è che stia diventando un po' un turismo di massa anche perché poi per dire meta di crociere che sono forse il turismo più di massa che puoi che puoi portare in una città perché alla fine sono persone che stanno lì poche ore poi si mordi e fuggi in tasa esatto in determinati luoghi però devo dire quindi ho sempre un po' il timore che si si vada un po' verso il perdere l'autenticità di certe cose in favore invece di qualcosa di più turistico però mi sembra che per ora si riesca ancora a tenere invece magari in certi luoghi che prima sembravano dei luoghi dei posti sinceri in realtà adesso magari sono diventati più turistici però i posti realmente napoletani realmente portenopeci sono ancora sono salvi salvaguardati ma va bene ultima domanda molta attenzione ti fa vigioli a Sanremo no devo dire che Portegali è quello che mi piace però assolutamente un pezzone gli prometo ho capito la polemica la capivo non è che non la comprendesi così come anche a me danno un po' fastidio ai napoletani che secondo me non è neanche necessario autoincensarsi è abbastanza ovvio però secondo me lui è molto bravo lo certificavano già i numeri che lo hanno portato lì io devo essere sincero non lo conoscevo non sono abbastanza giovane credo però poi nel momento in cui sono un po' andato ad approfondire ho visto che non è un fenomeno napoletano o almeno rientra pieno in quella spinta culturale di cui parlavamo prima che porta da Marefori a Sorrentino alla Ferrante insomma c'è sicuramente un'identità forte napoletana ma riconosciuta apprezzata e condivisa un po' su tutto il resto del paese sì devo dire che secondo me cioè quello che giustamente tu dici ma come giusto che sia non lo conoscevo prima ma anche io l'ho approfondito più adesso dopo Sanremo secondo me quello che si è evidenziato a Sanremo è che è strano che i giornalisti non lo conoscessero cioè se sei in una sala stampa dove devi votare per e dici no ma chi è questo cioè lì c'è qualcosa di strano che non lo so purtroppo sullo stato del giornalismo ne vorrei parlare in futuro magari ti chiamiamo per una considerazione volante volentieri ne hanno anche parlato Fedez e Travaglio qualche giorno fa non so quando uscirà la puntata però in questi giorni si parla anche di questo va bene va bene ti ringrazio molto per essere stata qui per averci raccontato questa storia a cui aggancio tutti i miei auguri di buona continuazione per questo cambiamento che c'è stato grazie 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 anche a voi che ci avete seguito fin qui io come sempre vi ringrazio vi saluto e vi rimando alla prossima puntata con l'invito se volete se avete alcune domande per Malù di lasciarcele nei commenti ciao